Salve a tutti da Casa Cerea, l'agenzia immobiliare di Cerea. Siamo oggi a proporvi una soluzione molto particolare. Si tratta di antico casale di campagna situato in posizione tranquilla tra Cerea e Casa Leone, su di un lotto di 2200 metri quadrati circa. Il casale si divide in due parti. Una porzione completamente ristrutturata, dove troviamo la parte abitativa, composta da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due bagni, di cui uno adibito per disabili, e quattro camere da letto al piano primo. Abbiamo poi una bellissima sala con colonnato ricavata nell'antica stalla. Una sala pavimentata al piano primo e un portico ricavati nell'antico fienile e nella barchessa. Completano la proprietà un ampio giardino piantumato con impianto di irrigazione già presente, un garage doppio e un terreno adiacente di circa 3000 metri quadrati attualmente adibito a parcheggio. La villa è stata completamente ristrutturata dal proprietario, con finiture ricercate, mantenendo lo stile rustico. Tra le finiture abbiamo scale in marmo, pavimenti in cotto, porte originali laccate, termostati in ogni stanza, l'impianto d'allarme e, non ultimo, un ampio camino in soggiorno. Stiamo parlando di una soluzione davvero unica per il mercato della zona, che si presta a vari utilizzi, come ad esempio la realizzazione di un bed and breakfast, un agriturismo, oppure per l'organizzazione di eventi, tipo ricevimenti o matrimoni. In alternativa, risulta essere una valida soluzione anche per chi desidera vivere in campagna, lontano dalla vita frenetica del centro, in un'oasi di pace e di tranquillità. Oltre a tutto questo, abbiamo una porzione da ristrutturare di circa 210 metri quadri, con un magazzino di altri 200 metri quadri, con il suo terreno pertinente. Siamo disponibili a fissare appuntamenti sul posto, senza impegno, insieme alla proprietà andremo a valutare insieme le varie caratteristiche e peculiarità di questo stupendo immobile. Il prezzo lo vedete sull'impressione, veniteci a trovare, fisseremo un appuntamento nei nostri uffici per valutare le varie opzioni. Grazie, arrivederci.